ciao a tutte allora oggi parliamo di denti di sbiancante per i denti allora ho provato questo della colgate si chiama max white expert white spazzolino più penna sbiancante allora a essere proprio proprio sincera questo me l'ha regalato mia mamma perché era in omaggio aggiungendo qualcosina a un settimanale tu se non mi sbaglio o un altro un settimanale e quindi l'abbiamo provato tutte e due uno e uno e così mi sono fatta anche l'opinione perché sinceramente io ho sempre usato come sbiancante per i denti quello l'olio della merci andy allora come si presenta è anche carino e direi che c'è tutto qui ok è uno spazzolino con la penna incorporata eccola qua allora vi mostro tutto si è finito quindi fa un po schifo no dai allora lo spazzolino non sto troppo a mostrarvelo perché comunque ci ho fatto il video prima di usarlo così tanto comunque a queste setoline guardate il colore non vi ricordano un pochino il molcio vileda a me sì cioè comunque il fatto di a questi adesso posso anche aprirlo questi dentini in gomma che vanno proprio a fregare sul dente quindi anche con c'è bello sbiancante cioè poi sfrega sul dente non dà assolutamente fastidio però rimuove davvero tutto poi oltre allo spazzolino il dopo si va applicare la penna sbiancante che è qui sotto allora la penna sbiancante eccola qui ecco all'applicatore in silicone quindi anche comodo e si semplicemente girando viene fuori il prodotto se io non l'avessi completamente finito comunque si è comodo perché si può portare dietro oppure tenere appoggiato tutto quanto e non si va a dimenticarsi di usarlo e mi piace allora dunque cosa dire intanto che ho notato un leggero effetto sbiancante effettivamente qualcosa fa non fa i miracoli per lo sbiancamento bello strong c'è lo sbiancamento professionale dai dentisti però qualcosina di diverso fa meno gialli mio notati oltretutto cosa importante questo gel che ha oltretutto il gel va applicato sui denti quindi una girata sopra una girata denti sotto si si stende bene non va risciacquato quindi è anche abbastanza sicuro non va a irritare le gengive non va a rendere i denti sensibili io li ho molto sensibili quindi me ne sarei accorta quindi non ci guadagno niente a dirvi il contrario ho trovato che per un prodotto da supermercato oppure da quei negozi ad esempio l'ho visto in commercio da tigota quindi un prodotto da grande distribuzione fa un pochino fa sicuramente è meglio che niente se poi magari lo associamo a un dentifricio sbiancante perché no sicuramente è meglio che niente io cos'altro dirvi mi è piaciuto mi è mi è piaciuto è stata una valida scoperta perché si e vai a sfazzare i denti gli sciacqui e poi 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 applicare il gel io normalmente come vi ho detto usavo l'oil pooling della mersey andy che è buono è naturale e tutto però è qualcosa ne fa anche quello però comunque devo tenerlo in bocca 15 minuti da fare gli sciacqui mentre questo è veloce è anche pratico sicuramente quindi mi è piaciuto io fatemi sapere se per caso lo avete provato e come vi siete trovate come sempre io spero di essere stata utile e se avete qualche altro prodottino simile consigliatevi che consigliatemi che magari li provo spero di essere stata utile se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video alla prossima ciao